Battipaia avrà la sua scuola elementare Giancarlo Siani che verrà inaugurata venerdì 8 giugno nei padiglioni dell'Istituto Comprensivo Francesco Fiorentino a pochissime ore dall'ultimo sintocco dell'anno. All'intitolazione dedicata al giornalista del mattino trucidato dai sicari della Camorra nel 1985 parteciperanno il fratello Paolo Siani, il prefetto di Salerno Salvatore Malfi, la sindaca cecidia francese e verranno accolti dal dirigente della scuola Dario Palo. Alle ore 11 all'interno della palestra dell'Istituto in via De Gasperi verrà inaugurata una mostra a cura degli alunni e dei docenti. Un felice epilogo che sopraggiunge al termine di una lunga serie di polemiche rimbalzata sulle testate nazionali per via dell'iniziale di niego al riconoscimento da parte della Commissione Toponomastica del Comune. A sbloccare il procedimento è stata la sindaca francese con una delibera di giunta inviata al prefetto e alla regione che in tempi record hanno espresso parire favorivole.